Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovate all'appuntamento con Il Fatto, rubrica che oggi dedichiamo alla presentazione di un evento che si terrà domani a Chieti su un tema di grande interesse e di grande attualità, in particolare per le imprese. ZES, comunità energetiche, nuova programmazione 2021-27. L'evento è organizzato dal confartigianato Chieti L'Aquila, di cui abbiamo in studio tre importanti esponenti, che saluto e ringrazio per aver raccolto il nostro invito, a partire dal direttore generale Daniele Giangiulli, buonasera Giangiulli, con lui anche il presidente di confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo, buonasera presidente, e anche il presidente del settore sostenibilità e transizione energetica dello stesso soggetto rappresentativo degli artigianati, vale a dire confartigianato Chieti L'Aquila, buonasera anche a lei, Daniele Braccia. Con loro inquadriamo i temi di questo convegno che vuole essere soprattutto un momento, suppongo Giangiulli, di ascolto da parte vostra di com'è lo stato dell'arte, perché avrete importanti interlocutori di cui lei ci parlerà e soprattutto importanti temi al centro della riflessione che voi avete aperto al coinvolgimento di tutte le vostre imprese. Esatto, proprio così abbiamo focalizzato l'attenzione su tre temi che riteniamo strategici per le imprese in questo momento storico, il primo sicuramente le comunità energetiche, un tema tanto discusso, adesso è vero che siamo in attesa del decreto attuativo, però ormai ci siamo per poter riversare sulle nostre imprese questa preziosa opportunità. Poi la programmazione nuova comunitaria 2021-27 che già la Regione Abruzzo ha iniziato a emanare i primi bandi, però sarà opportuno ed utile capire per le imprese quelli che sono gli assi, quelle che sono le misure che la Regione da qui ai prossimi anni metterà in campo per le imprese. L'ultimo aspetto è la ZES, perché sappiamo che è stata un po' controversa perché sulle definizioni geografiche c'è stato un po' di più che altro di maretta tra le imprese perché molto spesso non sapevano se rientravano o meno, venivano ricomprese nel territorio della ZES e della zona economica speciale. Dal 1 gennaio tutto questo sarà superato perché avremo finalmente una ZES per il mezzogiorno, quindi tutto il mezzogiorno potrà beneficiare di preziosi vantaggi. Quindi abbiamo organizzato questo convegno per domani, aperto alle imprese con degli ospiti illustri. Ringrazio sin da ora il sottosegretario al MIMIT, il Ministero per il Made in Italy, l'Avvocato Bergamotto che sarà con noi domani mattina e che ci porterà anche le nominità dal Ministero. Speriamo in merito al decreto che dovrebbe essere pubblicato a breve su altri bandi e opportunità che il Governo sta per varare a favore delle imprese. Tutto questo poi sarà anche aperto ai commercialisti che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere la fondazione dell'ordine dei commercialisti di Chieti e l'ordine stesso e devo dire che abbiamo trovato una sponda favorevole per accogliere anche i dottori commercialisti e creare con loro una sinergia perché di fatto noi puntiamo molto a lavorare in sinergia con i commercialisti, sempre nell'interesse delle imprese perché a noi sta a cuore lavorare per le imprese, per i loro aspettativi, i loro fabbisogni e quindi insieme ai commercialisti vogliamo essere di concreto supporto alle imprese del territorio. Bene, allora Presidente Saraullo che scenario hanno di fronte in questa fase così complessa gli artigianati, gli artigiani, i vostri iscritti, il settore in generale perché insomma questi tre temi sono appunto pianeti ancora in parte da esplorare soprattutto suppongo perché c'è una difficoltà comunicativa, c'è una difficoltà anche normativa da dipanare per questo probabilmente l'appuntamento di domani può essere molto importante per chiarire i tanti aspetti che allontanano il poter cogliere in maniera fruttuosa queste opportunità. Sì, noi con l'evento di domani cerchiamo appunto di dare risposta alle imprese, dare risposta alle imprese significa permettere appunto ai nostri associati di poter accedere a determinati bandi, di poter accedere a determinate agevolazioni. La zona ZES è un'opportunità fondamentale per il nostro territorio, basta pensare che accedendo appunto a questi tipi di contributi riusciamo ad ottenere un 30% di sgravio nell'immediato, utilizzabile come credito di imposta da circa un mese subito dopo aver fatto l'investimento. La cosa positiva appunto che non è appunto solo suddivisa in piccoli territori, ma avendo dal primo gennaio appunto una ZES allargata a tutto il territorio la cosa diventa estremamente interessante, sia dal punto di vista delle nuove assunzioni, che dal punto di vista degli investimenti e da quello che potrebbe avvenire nel prossimo futuro una volta che ci saranno le definizioni per le comunità energetiche, che sarà un'opportunità importantissima non solo per le imprese, ma soprattutto anche per tutto quello che è la comunità. Quindi per noi è fondamentale divulgare insomma queste informazioni e veicolare il messaggio di opportunità. Ancora Presidente Saraullo, abbiamo visto anche con gli esempi virtuosi di questi ultimi mesi realtà che sono già nate in Abruzzo grazie all'insediamento della ZES, grazie soprattutto all'attività del Commissario Miccio che sarà tra gli ospiti domani del vostro appuntamento. Ecco, quanto conta il fattore burocrazia che la ZES riesce ad abbattere nella sostanza per un progetto di impresa, anche per una piccola impresa come quella artigianale? Sì, forse è proprio l'ostacolo più importante la burocrazia, nel senso che dal momento in cui un imprenditore ha in mente di fare un investimento, dopo deve superare tutta una serie di iter burocratici che spesso impediscono al progetto stesso di poter partire. Faccio un esempio nel momento in cui uno ha una necessità impellente di investimento perché magari in quel momento ha delle commesse importanti piuttosto che ha uno sviluppo economico immediato nella propria attività perché magari ha acquisito nuovi clienti, nuovi mercati, pensare di dover fare un investimento e iniziare ad essere realizzato a distanza di due o tre anni per l'iter burocratico che bisogna attendere è veramente spiazzante. Sicuramente con la zona ZES tutto questo iter viene ridotto ai minimi termini e di conseguenza pensare di fare un investimento nel giro di pochi mesi è fattibile, questa è una grandissima mano perché permette di realizzare in pochissimo tempo gli investimenti. Purtroppo rispetto al passato la programmazione di un'attività aziendale è sempre più difficoltosa perché con continue evoluzioni di mercato, di dinamiche sociopolitiche uno fa una programmazione a breve, pensare di fare programmazioni molto lunghe e attendere anche un iter burocratico che blocca o impedisce in alcuni casi l'evoluzione della propria azienda è penalizzante. Presidente Braccia, parliamo intanto del tema dell'energia e della risposta delle comunità energetiche. Mi ricordo e lo ricorderà sicuramente anche il direttore Gian Giulli che circa un anno fa eravamo proprio in questi studi a raccontare il momento più difficile nel culmine della crisi innescata dalla guerra in Ucraina per le imprese, molte delle quali chiudevano veramente i battenti, lo hanno fatto alcune temporaneamente altre addirittura definitivamente per la difficoltà di potersi approvvigionare a prezzi umani dell'energia. Ad oggi com'è la situazione per le vostre imprese e soprattutto che risposta riescono a fornire nel concreto le comunità energetiche che sono in fase di attuazione. Le comunità energetiche è un esempio pratico e concreto della tematica della transizione 5.0, nei prossimi mesi, nei prossimi anni passeremo dalla transizione 4.0 alla 5.0 dove oltre all'innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, robotica, automatizzazione del processo produttivo delle imprese, si affiancherà anche, chiamiamo così settore green energetico, ovvero produrre energia pulita per l'ambiente, creando anche nuovi posti di lavoro perché grazie alla realizzazione di queste nuove impianti, di queste nuove centrali l'occupazione sarà maggiore. È anche una nuova filiera, spero molto importante, filiera italiana ed europea, sempre meno staccandoci dai paesi asiatici per la produzione di questi impianti, di pannelli fotovoltaici soprattutto. La 5.0 poi creerà l'indipendenza energetica, l'indipendenza energetica o parzialmente indipendenza energetica per le nostre imprese aumenterà la competitività internazionale e soprattutto per imprese artigiani e quindi mi riferisco alle grandi ma alle medie anche e soprattutto alle piccole, dove non possono dislocare le proprie unità produttive fuori dall'Italia, credono nel business in Italia, nell'occupazione in Italia, nel fare imprese in Italia, ahimè hanno avuto grandi difficoltà anche l'anno scorso per via del costo dell'energia che è impennato, quindi rendere queste imprese il più possibile autonome, indipendente energeticamente, questo è il fattore chiave che riguarda la transizione a punto 5.0. Oggi ci sono sempre braccia dei importanti momenti di opportunità che si aprono con il PNRR, c'è questa transizione reale e che tipo di approccio ci vuole anche da parte delle stesse aziende che appunto se non si organizzano attraverso soggetti proprio come confartigianato non riescono a cogliere le opportunità che vengono messe a disposizione per migliorare anche i propri processi produttivi nell'ecologia, nel rispetto della sostenibilità. Parliamo di ingenti somme, parliamo di molti miliardi di Euro senzetti della comunità europea nei prossimi anni, proprio nella produzione di energia rinnovabile, oltre alla ZES, come parlavano prima, ne abbiamo discusso poco fa. Questa è una grande opportunità per le imprese, soprattutto per le micro e piccole e medie imprese, questa è una grande opportunità, confartigianato ci tiene e vicina agli artigiani e alle imprese abruzzesi e ci teniamo a sensibilizzare, informare il più possibile delle opportunità che ci sono, quindi chiedo all'imprenditore un'apertura di ascolto e di valutare queste nuove opportunità che ci sono, che sia dei fondi PNRR, che siano opportunità concrete come oggi nei prossimi mesi avverrà delle nuove comunità energetiche o nuovi incentivi che avverranno tramite la regione Abruzzo o fondi ministeriali, io dico semplicemente apertura e ascolto perché sta avvenendo una transizione molto importante dove le imprese in questo momento finalmente sono state attenzionate e verranno molto aiutate. Chiudiamo con il direttore Gian Giulli per ricordare intanto il luogo, gli orari dell'appuntamento di domani, come si articolerà la vostra mattinata di lavoro e soprattutto l'ultima domanda relativa al fatto che sarà una giornata di ascolto perché avrete grandi interlocutori dal punto di vista anche tecnico rispetto ai problemi di cui stiamo parlando, ma sarà credo anche l'inizio di un percorso di proposta da parte della Confartigianato che non starà con le mani in mano, anche in un momento in cui c'è il rinnovo della classe politica regionale nel porre i problemi della categoria al centro del dibattito politico. Assolutamente sì, noi siamo a fianco delle imprese e la nostra interlocuzione con la politica è d'obbligo, quindi domani sarà una bellissima giornata con ospiti autorevoli, imprese, ho visto che ci saranno molti amministratori locali presenti, quindi sarà davvero una giornata di confronto che ci porterà all'inizio di una nuova stagione di politica e di investimenti per il territorio, perché diceva bene prima il Presidente Braccia, tra il PNRR, bandi regionali, nuova programmazione comunitaria, veramente le risorse sono ingenti e vanno spese bene, perché poi non dimentichiamoci che il PNRR più di metà è a debito per l'Italia, quindi se non vengono investiti bene oltre al danno la beffa come si suol dire, quindi dobbiamo prestare la massima attenzione alla spesa di queste risorse, spenderle bene e noi dobbiamo essere di supporto alle imprese, proprio per questo abbiamo messo in piedi un servizio di advisory, quindi supportare tutte le imprese che vogliono accedere ai bandi, i regionali, i nazionali, i comunitari, noi supporteremo le aziende per poter accedere, per poter garantire loro la miglior fruizione di queste risorse. L'appuntamento quindi è per domani, ci vediamo da Academy Formina, nostra scuola di formazione che è situata al primo piano del centro commerciale Centauro a Chiepi, siamo convinti che sarà una bella giornata per tutti di confronto e di crescita. Benissimo, grazie agli ospiti di Confartigianato Chieti L'Aquila, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto. Arrivederci.